Confermati 15 anni in appello per cospirazione per Saeed Bouteflika, il fratello del presidente che per 20 anni ha governato in Algeria. Condannati anche due ex vertici dell'intelligence, il generale Medienne, detto Tufik e il generale Tartag, che restano in carcere. Saeed Bouteflika è considerato l'eminenza grigia dell'Algeria, colui che ha realmente governato sul paese dopo che il fratello Abdelaziz è stato costretto alla sedia a rotelle per un ictus. Secondo l'accusa, Bouteflika Junior avrebbe cospirato per mantenere il potere anche dopo che il fratello, ormai muto da anni, non poteva essere ricandidato. È andata meglio a Luisa Nunn, la segretaria del Partito dei Lavoratori, quarta accusata. Il tribunale militare ha ridotto la pena e l'ha liberata dopo nove mesi di reclusione. Per lei l'accusa non è più di aver partecipato al complotto, ma di non averlo denunciato. Venir discorso il movimento Iraq, che ha portato alla destituzione di Bouteflika, è sceso nuovamente in piazza, nonostante a dicembre sia stato eletto un nuovo presidente, Tebun, che il popolo considera ancora espressione della nomenclatura che per anni ha governato l'Algeria.